Quanto hai preso? Totale 10, Chef. Truffelli, è il voto più basso. Mi dispiace ma sei tu quello che deve lasciare l'Accademia. Devo ancora imparare tanto e mi è servito comunque perché ho imparato tantissimo in questi giorni e so che posso fare di più e lo farò. Tu, Tommaso, mi dovrai dimostrare di essere degno di meritarti un posto in questa Accademia. Sì, Chef.